Gli accessi al pronto soccorso oggi lontano dalla pandemia covid sono in aumento con previsioni di crescita per il periodo estivo di un più 20 per cento. Difficile governare gli accessi all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno dove negli ultimi anni mancano diversi medici perché andati in pensione e oggi quelli in servizio sono prevalentemente giovani laureati o specializzandi a tempo determinato. È necessario affrontare e gestire il problema perché è vero sì che la carenza di personale è grave in tutti i reparti ospedalieri ma non si può continuare ad ignorare quello che sta accadendo nei pronti soccorso di Salerno. La denuncia arriva dal dottor Francesco Bruno rappresentante della CGL Medici dell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno che questa mattina ha rimarcato come i suoi colleghi sono costretti a turni massacranti che mettono a rischio la sicurezza delle cure e con l'arrivo delle ferie estive la situazione non può che peggiorare gli accessi in pronto soccorso continueranno ad aumentare. Oggi si paga lo scotto di 10 anni di commissariamento che se da un lato hanno fatto quadrare i conti dall'altro non hanno tenuto conto della necessità di garantire nei numeri la sanità pubblica così ai nostri microfoni il dottore Francesco Bruno. Noi abbiamo in questo momento un incremento anomalo di arrivi al pronto soccorso nonostante appunto la pandemia covid sembra stia diminuendo ma purtroppo c'è un problema numerico molto elevato abbiamo difficoltà a sbarellare le persone dicevo in conferenza stampa che potremmo essere addirittura peggio del cardarelli visto che loro le barelle ce l'hanno noi non li abbiamo ma non è un problema di struttura da solo del Ruggi. Il Ruggi è diventato l'unica stampella della sanità provinciale è necessario che si affronti il problema perché i problemi vanno conosciuti e gestiti è necessario che si sappia quali ospedali del territorio funzionino è necessario che il territorio dia un segnale alzi la mano e cominci a dare una mano alla Ruggi altrimenti con questo incremento anomalo che abbiamo ricevuto negli ultimi sette giorni e con l'incremento che fisiologicamente c'è durante il periodo estivo perché le scuole chiuse perché siamo una città turistica perché siamo stretti da due costiere il problema diventerà davvero insormontabile e a quel punto sarà troppo tardi in sanitaria in sanità come per tutte le cose mediche. I problemi vanno anticipati non vanno subiti perché quando si subiscono si è già perso. Lei diceva oggi si paga lo scotto di dieci anni di commissariamento oggi al pronto soccorso ritroviamo tanti giovani medici tanti medici di lungo corso sono andati in pensione insomma difficoltà che poi si legano anche alla valutazione clinica del paziente. Certo il problema è che non si può chiedere a un solo medico che sta in servizio al pronto soccorso sei ore di conseguire 40 malati e quindi qui diventa anche un problema di sanità pubblica perché ovviamente un solo medico non riesce a farlo e questo è l'esito e a me dispiace che nessuno ne parli di questo problema perché se oggi siamo ridotti così con questo nulla di personale un motivo ci sarà e bene dirlo a chiare lettere questo è il risultato di dieci anni di commissariamento adesso la regione fa salti mortali per riprendere quello che ci hanno lasciato i commissari per dieci anni sarebbe opportuno che qualcuno avesse il coraggio di chiedere scusa per quello che ha lasciato la sanità campana ci vorranno dieci anni per ritornare alla situazione precedente perché i commissari prima sapevano soltanto tagliare senza pensare a quello che è l'assistenza senza pensare alle zone disagiate noi abbiamo un territorio estremamente articolato non è facile andare all'ospedale di Vallo da uno che si trova a Santa Maria di Castellabato quindi tagliare gli ospedaletti piccoli è stato un errore gravissimo e la cosa più facile da fare era tagliare sul personale adesso piangiamo qualcuno che abbia il coraggio di dire sì scusate abbiamo sbagliato a commissariarvi per dieci anni è stata una stupidaggine sarebbe un atto importante